Consapevole di aver alzato un po' troppo il gomito sabato notte, un giovane di 27 anni non si è fermato all'alt della polizia stradale di Pesaro per evitare le conseguenze previste dal codice della strada. Un'ammenda fino ai 6.000 euro, l'arresto da sei mesi a un anno e la sospensione della patente fino a due anni. Così, vista la paletta degli agenti di fronte, l'istituto alberghiero Santa Marta ha deciso di accelerare e darsi alla fuga a bordo di un Alfa Romeo. A quel punto è scattato un inseguimento in direzione nord per le vie cittadine della zona mare e dopo vari tentativi di blocco, i poliziotti sono riusciti a fermare il mezzo all'altezza di Largo Aldo Moro. Il conducente originario di Bologna è stato sottoposto a un controllo con l'etilometro ed è risultato avere un tasso alcolemico di tre volte superiore al limite consentito dalla legge. Il ragazzo, insieme ad altri quattro risultati positivi su 25 controlli effettuati nell'ambito delle stragi del sabato sera, è stato denunciato all'autorità giudiziaria e segnalato in prefettura.